bene bene fa molto piacere che si si sicuramente è partito democratico sicuro 100% ragazzi se vi regge se vi regge il 720 per adesso la teniamo così tanto tanto stacco subito finisco questa run e si stacca quindi se non vi da troppo fastidio il 720p perché non c'è la multi quality semplicemente questo comunque grazie signor modem vodafone sempre complimenti ah Edoardo grazie per il follow in primis questo canale è molto molto simpatizzante delle bestemmie e nelle sue mot se mi caricasse le mot perché sarebbe bello sarebbe veramente carino che il programma mio caricasse le mie emote ecco abbiamo questo cioè come tu capirai è un dio ed è cane però nel senso è giusto per per aggiornarti su sul canale in cui hai lasciato un follow ecco comunque stavamo dicendo che questo gioco è bastardon che boh io abbaia ma questo è abbastanza chiaro l'abbiamo già capito più volte e niente cose allora vediamo un pochettino dove arrivo diciamo che è partito abbastanza bene comunque come schema non è non è cattivissimo speriamo che che regga bene e che soprattutto non mi muoia di nuovo for life però ma perché prendo danni dalla moschina cioè ma che problemi ho grazie molto gentile stavo aspettando 4 ore ma va allora vediamo un po' se abbiamo fortuna adesso niente è fortuna ma la fortuna per me in questo gioco non penso possa esistere e se esiste non è sicuramente per me vabbè 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 oddio cosa sta diventando sta roba abbiamo un cuoricino da qualche parte sì dovrebbero esserci no no ma ci manchiamo le fotte dai tanti ho caricato i danni oh sì ok ok let's go allora il fatto di prendere danni è bello perché aumenta il danno il problema è che va bene 5 teschi 3 nemici vabbè ma questo è un mio superpotere ma che cazzo simpatici rumeni allora 4 monete non posso comprarmi un solert non c'è una sega di curicino per curarmi dato che ho dei riflessi veramente ma veramente lenti oggi credo che questa run finirà super velocissimamente vediamo se mi sto dimenticando qualcosa ah no ci sono loro ci sono loro attenzione ci sono loro è ovvio no caghi fuori i ragni ci mancherebbe altro cuoricino signori cuoricino chiave attenzione attenzione ok let's go ok let's go ok let's go via buono 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 mi fa ben sperare mi fa ben sperare speriamo bene io cosa ho eliminato che picchione bambino no dai non c'era niente di particolare nessun riferimento ci sono mai in chat da scrivere gente che picchia bambino belli no 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 non mi devo far colpire non mi la fa colpire cazzo stai cominciando malissimo meglio non tenerla salvata quel messaggio dai diciamola così cazzo di allora abbiamo una sacrifice oddio no problemio che problemio con calma facciamoci tutto allora se riesco a arrivare velocemente al boss non è così mario e sia per cui no vabbè ma youtube mica youtube rimane immagino no nel chat e così va e viene eliminato non mi ricordo eh sì praticamente ciao pio praticamente i cosi video li ricarichiamo su un canale youtube sul mio canale youtube degli archivi dove ci mettiamo tutto il problema è che quella rimane quindi penso che rimarrà comunque visibile ecco se ti interessa edo punto schermativo social o lo fa somnos direttamente fa lo spammone ci sono più o meno molti quanti miei social i principali sono instagram e coso e i can see forever ah è vero ancora non l'ho attivato instagram e telegram oh explosive diarrhea no no sì sono stronzo vabbè sono stronzo gestire meglio allora chiave niente è vero sì vabbè gesù cioè non è ne so aspetto di spammare dai tu bastardi delle mamme bagasse è benissimo cioè oggi stasera non sto eh bleculo l'hai sbagliato vero che strano questi errori per dinci bacco allora un solo erto ce l'otteniamo per il boss grazie grazie oh la cacca d'oro buono però senza chiavi la cacca d'oro me la sbatto a culo come si suol dire in gergo tecnico qui in Sardegna non gergo proprio tecnicismo tipicamente Sardegna monete e l'ultimo è ragni no va bene cosa si è fanno quei due bottoni a spawnare roba però non ci posso arrivare quindi a meno che non trovo il modo di volare attualmente non riesco ad arrivarci purtroppo non riesco ad arrivare oh una chiave ci apriamo la treasure assolutamente anche se 28 anche se con 28 potrei aprire il negozio e vedere che mi danno 48 ore di energia grande bellissimo peccato che non abbia un attivo dai saliamo sulla treasure e speriamo bene che schifo che merda un culo gioco di merda lo so ho dei problemi però voglio far esplodere la la rock con la bomba quindi ok kinsim forever ce la riteniamo oh chiavi ok apprezzatissime ste chiavi molto apprezzate che schifo allora va bene va bene va bene allora prima di tutto tappa numero uno negozio prendiamoci l'anima e poi vediamo un po' adesso qua allora se esce grid chiudo la live ok e giustamente nel negozio c'è un cazzo un grande c'è un grande cazzo bello proprio utile utile questo vaffancula lui è chi non glielo dice esuberi volevi fare il pronostico no non c'è tempo tra un po' è un rei c'è no no dai no ora vi faccio scegliere vi faccio scegliere quale quale cosa aprire apro questo apro questo o apro quello a destra scegliete quindi apro il tesoro della stanza qua il tesoro della stanza qua o uno dei due tesori della stanza a destra questo qua ok somnus ho premuto cooper error gesù mi accodo via una chiave e un solo earth perfetto ora apro questo qua o quello a destra o uno di quelli a destra quello a destra più decirete voi via andiamo a destra e di quello a destra quale dei due ce ne sono due scegliete destra o sinistra o una sola chiave sinistra dai siete in tre sinistra via signori 4 sol earth ammirevo perfetto posso lasciare aperti anche gli altri adesso potrei andare a fare la sacrifice si ok ok let's go oh no allora è che voi vi danneggiate con quelle bombe quindi sono contento così dai perché mi faccio danneggiare con un hp allora a noi interessa fare il patto di satana oppure puntiamo al ma io vorrei no dai patto angelico tutta la vita ho 5 sole earth vaffanculo patto angelico tutta la vita patto angelico ok vediamo un po' cosa riusciamo a ottenere speed up si va bene mi piace romperò no speriamo di no cazzo no spero veramente di no allora che abbiamo qui bello ovviamente io posso aprirlo certo oh no gravi salterini bastardi dai che mi sono mosso in tempo non è vero non è vero è vaffanculo tu hai quella p***a di tua madre ok tinted 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 no tinted no però se magari ci droppa una pillola che gentile arrangiato bravo abbiamo il phd quindi di conseguenza possiamo sfruttarlo al 100% anzi proprio per questo per dincibacco aggiungerei fare così bravo 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 che pieno di ragni cioè ok grazie possiamo scendere giù perché io mi rimetto sempre su io so che lì sopra mi colpiscono quindi perché mi ci metto sopra ogni volta qual è il problema che tende oh la chiave schifo stasera sto trovando le cose peggio cioè proprio orribile orribi blu mamma mia 42 e come dammi un hp up maledetto ma no edo è tutta la sera tu sei arrivato alla fine della live quindi di conseguenza non mi danno l'hp up vabbè comunque non è cattivo vaffanculo 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 ragni addirittura così gentile minchia nice nice apprezzo tantissimo questa scelta oh cazzo tutti questi ragnoni oh questa run finisce presto penso proprio di no allora joker oh joker allora credo che il nostro rosario sia la scelta perché questo qua è carino fa danni e può riflettere danni quindi può deflettare danni questo ogni volta che carica però ha 6 di carica ogni volta che che carica ha il coso ha il come si chiama mi dà un eterno alert e teoricamente ovviamente non ho la mappa portata di mano però teoricamente posso amazon non faccio gli occhiali e beh sei gentile sei gentile sei gentile via con naruto ok perfetto ora sono concentrato e pronto a vincere 3 solert proprio palese che potessi che non prendessi diversamente in più possiamo ambire alla bibbia che non è male alla bibbia di bibbiano ora questo mi ha fatto perdere la prima run oggi rendiamoci conto e lo stavo combattendo con 3 50 di danno adesso sono 10 e comunque ci mette una vita a morire porca puttana che gioco bastardo nella mia prima run con magdalene stavo tentando a tutti i costi di fare la chiave per scendere da satana fare satana e mega satana oh cazzo però ho sbagliato e sono morto mortissimo il problema è che stavo combattendo il 3% vabbè sì non ho altri e che stavo combattendo contro di lui con 3 50 di danno cosa ti ridico cosa mi dai qua shot speed up sì no è anche una chiave perché mi dispiace non mi serve invece tu sì possiamo ambire a mother quindi non male possiamo anche andare precisamente allora tutte le cose che c'erano da scoprire le abbiamo scoperte ora ci tocca semplicemente andare e vincere destra o sinistra su votate ho una sola chiave quindi scegliete son si dice destra vogliamo un altro parere un altro voto su via let's go mia figlia via il magician lo usiamo adesso lo usiamo adesso contro il boss oh che bello ma perché mi faccio colpire da questo boss cristallio damage up porca troia apprezzo tantissimo c'era la spank di valorant come minimo cose che non ci sono nel gioco va bene non ho chiavi non ho altro c'è una cassa però qua su non ci posso arrivare perché non me lo ricordo dai su ed esci pallino giallo explosive diaria a lol c'era questo va bene explosive diaria ho 48 ore di energia giustamente ora che non ho più il 48 ore di energia perché mi porto giù questa per rompere rocce sicuro al 99% mi esce tipo l'attivo della vita guarda lo metto quello che vuoi ok ok let's go via giù no non ti permettere di sputtare mosche la cassa degli angeli che richiede tipo 28 stanze madonna non mi sperare trunzi ciao sono riuscito a metterlo perfettamente al centro perfettamente che talento vabbè soldi via andiamo alla tre azure no non c'è la tre azure ovviamente perché non ho chiave quanti campioncini ci sono bravo che spawni nella mia scia di merda adesso sono rimasto immobile vabbè per prendere danno dai avevo curi da sacrificare cazzo io sono stato stupid di empress a parte che li biscotto eh sì il problema è che non ho chiave non ho un problema non ho assolutamente chiave che dici signor gioco mi dai oddio non stavo manco guardando per fortuna non mi ha preso allora io direi che qua c'è la super secret no oh così dal nulla va bene grazie apprezzo i appreciate talmente a caso sperimenta il pill però dato che faccio così non mi dovrebbe abbassare nulla infatti che carino eccola super oh ma questa è una secret normale oh mi fa rerollare il piano davvero lol mi fa rerollare il piano cioè ma siamo pazzi se faccio così allora apro la super secret oh no no che abbiamo qui giù oh no no salgo su fermi tutti prendo comunque questo perché se adesso io vado a destra e mi manda in chaos room sono chiuso fuori e quindi perlomeno posso rerollarmi il piano oppure no no ancora meglio ancora meglio ancora meglio questo lo lasciamo qua l'attivo ma lo potevo droppare vero no porca trovi vabbè allora devo fare devo evitare di premere spazio allora ragioniamo ragioniamo se adesso io vado a destra vado nella cosa quindi adesso prima di tutto entro qui dentro mi faccio il boss mi faccio il patto angelico assolutamente lì bravo continua a rimanere immobile lì per favore che mi fai contento muori bastardo bravo bravo mi va benissimo questo no non mi va benissimo due su tre erano bombe dai ma che cazzo devi essere proprio figlio di troia per fare mi prendo la chiave oddio che attivo stupendo oddio che attivo stupendo cazzo cazzo no non è giusto questo attivo io lo voglio però se devo rerollare devo per forza perderlo cazzo 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 eh ma rerollando ho più possibilità di ottenere robe cazzo ma sì ma è proprio quel personaggio che è maledetto è Magdalene che è veramente maledetta cioè fa proprio schifo cazzo proprio schifo a tutti cioè ma povera di sodio questo è bellissimo fa una marea di danni perché questo qua si carica e poi dai fai la fiammata stupenda che sofferenza non è giusto non è giusto non lo trovo assolutamente corretto nei miei confronti allora torniamo indietro torniamo indietro vediamo un po' devo fare le altre stanze e sperare di droppare chiavi è l'unica è quella oddio mi ha rimbalzato non so perché non mi ha danneggiato chi sei è il tap ball of seals che ho già quindi 8 non potevo portare a presa apriti la secret l'abbiamo già aperta la super secret invece no però papapero parapoco per adesso andiamo a cercare che bello che bello allora carichiamoci sto stronzo qua oh no cuciuda 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 porco allora chi sei tu boss room e tu io potrei anche farmi un no dai potrei farmi ancora sacri faccio faccio volendo ho una chiave quindi allora io provo ad aprire il tesoro la stanza del tesoro quindi la treasure room cioè non la treasure room scusate lo shop sperando che ci sia una chiave alla peggio ho 32 monete e c'è grido ovviamente ma chi ci poteva essere se no gesù schifoso bastardo bastardo che gioco di merda che gioco di merda aspetta allora ho anche ho altre possibilità ho altre possibilità posso andare nella sacrifice la sacrifice non dà chiavi se non ricordo male vero però me la sento magari ci dà qualcosa di utile tu che cazzo sei non lo so vaffanculo via moneta moneta dammi la chest porca troia io feel blessed tua mamma è blessed chest chiave si ok 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 va bene mi fa bene così mi fa bene così spero di trovare qualcosa di buono nella treasure perché se no ho fatto un saccasino per niente cazzo se c'è qualcosa di buono vaffanculo non mi serve a niente con questa cosa non mi serve a niente cazzo è il tato va bene non mi serve a cazzo do fine non mi serve un cazzo sto casino per niente 6.000 l'avrei preso al 1000% proprio l'avrei preso volando anche veramente volando mannaggia gesù allora via andiamo 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 vediamo un po' che cosa ci prospetta questa questo posto qua via oddio ho due discese eh mi ricordavo non mi hai visto allora questo è carino perché fa blu 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 però preferisco quelle pulsanti perché sono più grandi caos caos sicuro al 1000% via caos oh ora 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 potrebbe diventare una run veramente interessante ma veramente è tanto interessante non sto scherzando ora potrebbero succedere cose veramente ma veramente carine e scendiamo anche in una di queste ne sbatte il cazzo tanto boss l'abbiamo fatto l'angel room l'abbiamo fatta questo è fatto quell'altro è fatto va bene dai proviamo questa run finisce presto no non penso penso di no ho detto una cosa del genere no io non ricordo eh raga giù hanno già cucinato però questa run non la voglio finire sembra parecchio interessante della volta buona che posso fare qualcosa ovviamente non puntiamo puntiamo a fare satana e mega satana satana mega satana satana mega satana ah cazzo non mi devo far colpire satana mega satana assolutamente satana mega satana allora finding of isaac inizia now now inizia life is now bruciatevi bastardi così vi danneggiate è quello da dove è arrivato scusate perché è piovuto un coso dal cielo non mi ricordavo di averlo cosa sta succedendo che dici mi dai un solarte no vabbè ti ho chiesto signore ti manda doni al cielo un altro messaggio in arabo non bello continuo a dire che non è la cioè sì è una puttana madonna ma non stiamo parlando di quello dai robè però non ti devi far danneggiare così cioè proprio da stupidi nel frattempo nel frattempo infested no no di empress no non possiamo nessuno oh un altro health up però con calma tu muori e adesso vi gestisco pian piano no stami lontano bastardo secret oh grazie no mega super grid che cazzo no 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 ma sì ma tanto ma che me ne fotte se mi danneggiano tanto era mai fatta la chiave ce l'ho quindi devo solo arrivare giù perché faccio patto di satana a me non me ne sbattico niente pigian buonasera benvenuto o benvenuta non lo so piccione o picciona oh ciao allora tu mi piaci tu mi piaci tu mi piaci tanto ho psd tu mi piaci tanto ho soldi da buttare letteralmente buttare ciao e tu the hanged man allora the hanged man mi sa che mi serviva no piccione allora benvenuto 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 al canale piccione piccione eh lo so 20 su 20 ah ecco perché cosa mi serviva qua voglio un hp up signor signor cazzo ti chiami ogni volta mi dimentico cazzo molto gentile quindi vuoi per forza che io usi la mia la mia bellissima urna no così bella poi si rovina dato che sto giocando di merda torno dopo a prenderla mi devo ricordare dove però e se un pro su isaac simpatico no 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 sfortunatamente no però però mi piace quindi dai diciamo ok bella 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 perché ci vado in faccia perché lì ci vado in faccia è abbastanza up abbastanza up abbastanza up questa cazzo di cosa di urna bellissima io non conosco quasi niente allora è un bellissimo gioco c'è una cosa fondamentale che però bisogna fare è la cosa fondamentale da fare in questo gioco oddio non ce l'ho ancora attiva la cosa fondamentale di questo gioco è giocarci giocarci a manetta purtroppo tu che vorvi prendere una pillola beh sì effettivamente è vero io sto buonando ma invece la treasure l'abbiamo già trovata che non me lo ricordo proprio per niente nulla proprio allora vediamo un po' quanta sfiga purtroppo sto gioco devi giocarci e utilizzare come me ogni tanto programmi che ti descrivono le cose che ci sono per terra perché un'alternativa non dico che sei spacciato però conoscere alla perfezione le cose è praticamente impossibile perché ce ne sono troppe sono incastrato no rischio di perdermi un'eternal art io prenderei oh grazie solo art grazie molto gente eh ma prendere a caso non conviene in questo gioco cioè conviene studiare veramente perché c'è il rischio che ti fotta oh cazzo è quello the moon oh no eh vaffanculo ok oh no no non mi piace questo l'icone kawaii ma perché no ragazzi io questo non lo prendo questo praticamente cosa succede all'inizio di ogni piano vieni vieni danneggiato è però per di esatto per di mezzo cuore alla volta no no ma nemmeno per sogno ti dà molto più danno eccetera però ti rende la run veramente difficile e non ho voglia ok possiamo andare avanti perché assolutamente sì andare avanti perché sì non avanti qui perché ci sono le spine possiamo andare nel piano successivo e siamo anche abbastanza felici dai let's go oh cazzo dura sta run quanto siamo 41-6 minuti va bene allora subito 3 asures bravi passate nella la mia trail creep what the fuck la tiria funziona ma tu porti anche giochi come ad esempio beh ad esempio è un gioco a cui non gioco molto spesso però solitamente diciamo che sono più che non sono un monomarca diciamola così sono un variety streamer se vogliamo darmi un nome da 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 pseudo professionista in realtà non sono assolutamente professionista sono un signor nessuno come vedete dai miei follow che per uccidere oh porca troia che ci tiene oh carino è furioso coccodrillo è un bellissimo gioco bellissimo bellissimo gioco merita veramente tanto se io avrei cominciato a giocare non soppre niente aver preso la croce sai cos'è la croce vabbè allora prima di tutto su che piattaforma giochi facciamo qualche piccola oh cristo non li avevo visti stavo guardando la cella qualche piccola qualche piccola modifica diciamo vediamo un po' i dettagli su che piattaforma giochi perché se giochi su pc è la possibilità di sfruttare varie mod comode come quella che sto utilizzando io adesso per esempio cioè quella che ti permette ah non giochi ad isaac ah scusa avevo capito che ci giocavi ma eri cioè non eri molto bravo eri scarso un po' come lo sono io ah l'hai giocato l'hai creato nel 68 beh sì tu ovviamente nel 68 hai fatto bellissimo gioco furioso a cocodrillo oltretutto ma perché siete così pezzi di merda fantasmini bastardi non siete manco i bu di coso di super mario quindi bravo ammettilo che sto per dire questo ma cosa adesso dello scarso cioè sì sono scarso oh no questi scattano beh pigeon se non ci giochi è inutile anche solo ragionare cioè nel senso purtroppo ma bastardo ma devo smettere di prendere danni vediamo un po' se riesco a aprire qualcosa allora oh 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 cazzo allora la mod che ho è questa qua come vedi a sinistra mi esce un elenco mi esce un elenco con tutte le cose e mi descrive le varie cose Gesù prendo anche questo allora vediamo un pochettino se riesco a non far danno della merda vediamo qui dai mi serve qualche moneta Isaac da play sì penso di sì penso che si possa giocare c'è c'è la versione per tutte le console anche per switch yes yes allora mi servono monete mo e cosa scusatemi sono un attimo confuso cosa è sta roba ma siamo pazzi un po' confuso che cazzo di stanza è non ho non ho chiavi per permettermela e io sono alibito c'è una stanza del genere non l'ho mai trovata sì sì se continuo ho due chiavi grazie se continuo a ettarli so che si alzano so che non si alzano però oh Gesù no devo trovare altre chiavi cioè la bibbia la bibbia c'è la bibbia ma ci rendiamo conto no stiamo impazzendo ma stiamo impazzendo qui che stanza ho trovato no in realtà ho una chiave intera per mega satana ho già l'ho già fatta la chiave intera cosa sta succedendo qui sì ma la bibbia c'è non la prenderei nemmeno la bibbia io cioè arrivato a questo punto non la prenderei davvero chiave ok ma eravate stunnati perché mi state sperando se eravate stunnati scusate chiave e la bibbia è sciotta però è anche vero che l'anfora è l'anfora cioè con l'anfora ci fai satana tranquillamente oh chiave c'è l'anfora è molto più multipurpose cioè l'unica cosa che darei alla bibbia è che ovviamente la bibbia ti permette di uccidere due boss facilmente ma carico come sono a questo punto oddio non nemmeno ho tanta paura porca puttana comunque questa stanza stupenda mai vista quanto manca alla fine eh oddio devo incominciare a sbrigarmi facciamo che mi sbrigo perché devo fare ancora quasi quattro piani quasi quattro piani sono da fare mi sa che mi tocca anche perché sennò non ce n'ho più via allora questa mi sa che picchia e basta infatti easy mi prendo anche un bel damage up un grande pleasure in media se vuoi fare una run veloce più che altro sì 40 minuti però in questo caso me la sto prendendo con grande calma sto chiacchierando insomma facendo cose oh che bella stanza proprio quella giusta per caricarmi l'urna cosa mi ha danneggiato non lo so ma qualcosa mi ha danneggiato grazie no ma poi non ci si annoia mai quando si gioca Isaac non si si annoia mai anche perché ti prende c'è poco da fare già trovata la bibbia mi dispiace brutto bastardo di coso bluastro stronzo quanto li odio questi mostri quando non hai uno shot speed up valido poi sono orribili da uccidere pianciarobbe no 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 che c'è qua ciao ma davvero va bene ok gentile gentile live vediamo un po' se mi può servire ma sto andando nella direzione giusta penso di sì sì però questi sono i bastardi che lanciano gli stronzilli che poi ti esplodono addosto adesso è sempre in movimento oddio ciao estate oddio sì nice nice ru ci buttiamo qua allora roberto 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 grazie grazie siamo qua oddio no questi sono quelli che sparano oddio 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 sì questo sì si spaccava forte la notte il giorno sempre non so bene dove ci sto finendo cos'era quel che ogni tanto mi compare eh lo apprezzo però guarda le monete quanto mi fanno schifo adesso dammi cuori da bravo piuttosto le monete oh mi permetti ho una stanza di pietra eh sì 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 vabbè ma lo fa oh no ho fatto l'errore ma quella moneta lì da un da una cacca la moneta da 10 ma che cazzo cosa sto vedendo stasera in queste run allora fermi 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 non mi devo fare nel genere ok mi avrebbero ucciso al 90.000% no no roberto se si è andato sopra la cazza di creep allora piano ok let's go questi sparano forte piano spostati scendi pian piano e li trigger ah questo fa croce vero grande disattenzione quello sparacroce sono stronzo allora questo è il boss cacca abbastanza gestibile eh sì beh cosa ti dico anche loro da qualche parte dovranno stare voglio aspettare la cosa giusta allora anfora e spacchiamo i bastardelli wow ok che schifo che schifo veramente cioè tu mi dai la cosa del genere cazzo di gioco pillola bla 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 via go 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 acceleriamo il passo che sennò qui non si cioè sono le 20 e 50 qua ok che stanotte non devo trasmettere però praticamente sto chiudendo all'ora in cui solitamente io starto perché oggi è particolare perché oggi è particolare io solitamente trasmetto sempre dalle 21 in poi sì lo prendo al posto del coso però mi pentirò mi pentirò no mi piace ma tutte le bombe risparmiate facendo oh che bello sgancia sgancia cuori voglio cuori via no di nuovo i bastardi c'è per fortuna che in questo rano oh lo sparo veloce ho lo shot speed alto perché sennò sarebbe un casino ma sai che vi dico ma non me ne sbatto un cazzo meno che cazzo cosa mi ha danneggiato la bubu una mosca viola che ti gira intorno quella viola in teoria dovrebbe servire per proteggermi dai danni dovrebbe fare da scudo è che non ne ho capito bene se mi sta facendo da scudo davvero oppure no tinted tinted no via via col cuore di mamma subito dai no i bastardi pazzo isacco io con lui non ho nessuno quindi penso che scenderò giù subitissimo direi c'è live quanto cazzo ci sono allora boss qua su oh no sei cattivo sei molto cattivo oh cazzo spero di essere giusto ok ok bastardi sono terribili ciao buonasera eh più o meno dai bastardo vieni dai apriti devo preparare ancora la valigia no preparare la valigia no oh no questi sono brutti questo è pure champion sto andando in direzione sbagliata secondo me scendiamo giù nope e PSI fly penso di sì dai penso di sì non è sono certissimo ma dovrebbe essere quello che mi protegge perché si mette davanti no aspetta però sta facendo lo stesso movimento che faccio io forse no quello dovrebbe scattare soltanto oh dove cazzo devo andare grazie signor conjoined oh forse devo salire su allora sì forse devo salire su oddio tu mori subito così veloce vai da bravo amore cazzo che mi ha colpito comunque maledetto infame sì ma non è infatti il PSI e allora non so l'unica cosa che posso pensare è uno che si muove con me per e fa danni a cosa e fa danni a contatto l'unica che posso pensare è quella ma non me lo ricordo perché dovrei averlo comprato nel negozio ma l'ho comprato dalla serie spendo a cazzo senza senza attenzione la mosca che passava di lì possibile no 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 bello ok oddio grazie dove ci fosse la secret oh che carino che carino stavo per rischiare di sbattermi al fuoco cioè rendiamoci con oh no no non bello non bello un danno no non bello mi prego dov'è il boss giù dai fatemi datemi qualcosa puttana troia pillo la cosa è power pill non mi peste cazzo roba è però anche tu dove devo andare giù a destra black heart no pure un nero cuore no Gesù quanto l'odio oddio si vedrebbero decisamente cuori il problema è che sembra che non facciano parte del del gioco adesso super secret piena di cuori no dai allo questo cazzo è la super secret ragazzi erano cuori però tentiamo il tutto per tutto via anche perché è ora davvero di chiudere la live troppo tardi ok let's go via ho il zack no 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 ok perfetto vieni da bravo vieni da bravo vieni da bravo ok e ora le gambine forza va bene muoviamoci bene muoviamoci bene ci abbiamo satana ok oh cazzo oh cazzo oh shit oh cazzo difficile difficile adesso difficile 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 eh din din don ah beh ovviamente ho il coso provo a farmi il boss dai l'altro boss però no mega satana che paura oh no voi sparate fortissimo ok roberto no roberto no anfora 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 tutta la vita adesso cade mi sa infatti vai dai smettila di salire nel cielo della f***** che ti ci mandi no non ce la farò mai lol un solert il dito signori qua la sto lasciando troppo a manetta però fanculo cioè devo andare quindi siamo pronti cioè qua faccio il boss del piano con un cuore un solert e un cuore e mezzo un po' lì via via allora piano 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 mi ha preso faccio e beh ci sta dai su 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 l'ho fatta al volo però dai ho satana quindi ci sta allora belle persone io stacco perché devo no scusate 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 allora io stacco perché devo assolutamente scappare facciamo un raidino a Mew e si va belle persone grazie per la compagnia grazie per il follow grazie per le cose e sì ti aggiorno Soms ti aggiorno ciao belli passate una buona notte un buon fine settimana e ci vediamo lunedì sempre dalle 21 un buon fine ciao 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 ciao